ciao benvenuto in questa nuova lezione dove andiamo a vedere come funziona dispensa slap oggi in particolare vediamo la lezione 5 la lezione 5 è abbastanza simile alla 2 perché anche qui andiamo a lavorare sempre sulla corda di mi per tirare fuori questo suono di pollice e anche di ghost rispetto a quella lezione però avremo le ghost suonate all'inizio anziché alla fine quindi ad esempio nell'esempio 2 ti trovi ghost più tre note reali innanzitutto le note sono la e si andiamo sempre a prendere il tasto 5 corda di mi e tasto 7 corda sempre di mi quindi quando suoniamo le note reali e quando suoniamo le ghost e l'altra cosa importante che che devi sapere è che dobbiamo con la destra colpire assolutamente nello stesso modo ghost e nota reale ok quindi la mano destra deve essere deve sempre randellare e la sinistra che dovrà andare a controllare se la nota che vogliamo far uscire è un agosto oppure una nota reale se una nota reale schiaccio anche qua poi bisogna vedere e parlarne sulla lunghezza della nota perché perché io posso leggere ad esempio primo esercizio è tutto ottavi o così oppure con le note più staccate sono scritte normali quindi andrebbero lette lunghe però nello slap molto spesso si va a staccare un spettino le note tu studialo in tutti e due modi la cosa migliore è sempre quella di riuscire a studiarlo in tutti e due modi e poi in base all'occasione in base al genere che stai suonando in base al tuo gusto potrai decidere se suonare una o l'altra mentre invece dicevo sulle ghost quello che dobbiamo sapere è questo quando andiamo ad alleggerire con la mano quindi abbiamo detto che la mano sinistra che va a creare la ghost non la destra che colpisce come se tu dovessi suonare la nota reale la sinistra se schiacciamo premiamo appoggiamo solo con un dito rischia di far uscire questo che è l'armonico quindi dobbiamo appoggiare anche un almeno un secondo dito quindi da così a così senti che qua adesso è pulito il suono te lo faccio vedere anche un po di lato se si vede quindi con la destra colpiamo come se la nota uscisse reale con la sinistra appoggiamo vedi non sto schiacciando chiaramente dalla mia camera non non si vede però è una cosa veramente leggera leggera cioè sono proprio delle finezze queste per far uscire o la nota reale o la nota ghost nell'esercizio qua ti troverai quindi la la prima che va a prenderle tutte ad ottavi per abituarti a suonare la e si il si lo puoi prendere sia con l'anulare più scolastico oppure con con il mignolo che è un pochettino più comodo a mano aperta poi andiamo a mettere una ghost e tre note poi aumentiamo due ghost e due note tre ghost e una nota e poi la combo finale che è quella che hai sentito nell'introduzione dove andiamo a prima alternare ghost reale ghost reale ghost reale reale ghost questa cosa diventa bella quando riesci a incastrarla bene in velocità a cosa ti serve questo? ad avere il pieno controllo della nota ghost piuttosto che la nota reale quindi devi riuscire a metterla dove vuoi abbiamo delle basi allora sul mio sito puoi trovare da scaricare gratuitamente questo pdf dispensers lab se vuoi le basi con una minima di donazione di 3 euro ti prendi 400 mega di mp3 di basi a tutte le velocità con basso senza basso con l'incipit che ti dà il primo giro e poi gli altri tre di suoni tu eccetera eccetera dove lo trovi? sul mio sito vediamo se si vede da qua quindi carlochiro.com vai in ebooks poi vai in dispensers lab e ti apre questa pagina vai qua sotto se vuoi anche gli audio quindi fai lo voglio donazione minima di 3 euro decidi tu quanto possa valere altrimenti scarichi gratuitamente il pdf inizi a dargli un'occhiata questa qua è la lezione 5 quindi puoi già vedere le altre sentire come funzionano per il resto niente mettiti lì e suona queste sono queste sono le cose della lezione 5 nella 6 andremo a vedere poi la stessa cosa ma sulla corda di là bene io ti saluto ci vediamo al prossimo video grazie ancora e ciao a presto a presto a presto